E' salito a 40 morti il bilancio di un attentato esplosivo compiuto a Rukubi nella Nigeria centrale. La cifra è stata confermata da Abdullah Isule, governatore dello Stato di Nasaragua, dove da anni si registrano frequenti episodi di violenza. Prima si diceva che fosse stata l'aviazione a compere il bombardamento, ma ora sappiamo che non c'era nessun aereo a sorvolare l'aria. L'attacco è stato portato a termine con l'impiego di un drone che ha preso di mira un'aria in cui gli allevatori locali custodivano i loro capi di bestiame. Sulla stessa zona, in passato, si sono registrati attacchi aerei dell'esercito nigeriano contro formazioni jihadiste che spesso hanno causato ingenti vittime civili. Nel settembre del 2021 un attacco dell'aviazione ha ucciso almeno 9 persone, mentre nel 2017 un aereo militare ha bombardato il campo porofughi di Rann, vicino al confine col Camerun, uccidendo 112 persone.